ben ritrovati a tutti ragazzi ciao come state nuovo video allora oggi voglio affrontare una tematica che è un po la solita tematica se vogliamo che un po la tematica spigolosa e cioè il futuro della guida tecnica della juventus parto nel rispondere a quelli che mi dicono ma come ancora parliamo di allegri e vi dico che per me parlare dei giocatori è essenziale parlare dei dirigenti è essenziale ma dopo tre anni come quelli che abbiamo vissuto due anni e mezzo che presto diventeranno tre io considero la priorità assoluta ragionare sulla guida tecnica perché i dirigenti creano i progetti i progetti devono essere sostenuti dagli allenatori e in base agli allenatori devono essere valorizzati i giocatori per raggiungere risultati però i risultati sono effimeri perché vi dico questo quando faccio quel video in cui vi spiego che non avrai rinnovato allegri nemmeno in caso di scudetto vi faccio l'esempio dello scudetto del milan di pioli e vi dico il milan di pioli vince lo scudetto quell'anno lì per la mia lettura che non significa che sia quella corretta perché i giocatori vanno a creare quell'empatia generale con l'allenatore e con la tifoseria scendono in campo andando anche oltre i loro limiti anche se non c'era un contesto tattico ben definito ma soprattutto organizzato si era comunque riuscito a fare qualcosa in più poi vincono lo scudetto ma lo scudetto è uno scudetto che si vince l'ultima giornata in un testa testa folle con l'inter dove l'inter che commette l'ultimo errore l'inter sbaglia di più del milan il milan sbaglia meno dell'inter e quindi vince il milan per un discorso di punti però la percezione già all'epoca era che quell'inter lì fosse di più del milan al primo anno di inzaghi tra l'altro con l'eredità di conte da campione d'italia in carica quindi ci stava che potesse essere qualcosa in più però era il primo anno di un allenatore che prendeva in mano una squadra scudettata senza aver mai vinto lo scudetto e perde lo scudetto l'ultima giornata l'anno scorso l'inter in serie a fa schifissimo diciamocela tutta completa una delle sue peggiori stagioni dal punto di vista dei risultati arriva quarta pari punti con la juventus e arriva però in finale di champions league la percezione era che l'inter comunque fosse se ancora squadra anche se era arrivata quarta anche se aveva fatto una pessima serie a poi lasciate stare perché se dobbiamo guardare i risultati allora l'inter aveva vinto supercoppa e coppa l'anno prima supercoppa e coppa l'anno scorso quest'anno ha già vinto la supercoppa e quest'anno molto probabilmente vincerà lo scudetto perché la percezione da tre anni è che l'inter sia comunque una delle squadre più organizzate d'italia poi lo vince il milan l'anno scorso lo vince strameritatamente il napoli però la juve di allegri quest'anno anche quando le cose andavano bene per me il contesto tattico era lo stesso era un contesto tattico difficile nel quale emergere basti pensare che oggi vlaovic sta segnando di più di quelle che sono le sue occasioni di quelle che gli capitano e oggi stiamo facendo un po il discorso per chiesa lo stesso discorso che facevamo per vlaovic o un paio di mesi fa o l'anno scorso perché poi per forza di cose quando si utilizza questo approccio al calcio il focus va sui calciatori perché sono quelli che creano gli episodi che far vincere le partite la percezione che ho della juve è che da tre anni non si sia costruito niente che quel famoso juventus empoli 0 1 sia poi la stessa fotocopia di juventus frosinone 3 a 2 con un risultato diverso ma con una partita simile più forte l'empoli meno forte il frosinone i valori tecnici individuali è quello che è ma la percezione è una squadra la juve che già nella prima partita in casa del ritorno di allegri quasi tre anni fa e l'ultima partita giocata in casa sempre con allegri in panchina la juventus non abbia idea dell'organizzazione che deve seguire questo è il motivo per cui secondo me oggi la guida tecnica è la priorità assoluta per la juve poi valuteremo i calciatori perché secondo me quando poi verrà tolto allegri verrà tolto quell'effetto parafulmine che oggi sta proteggendo i calciatori che sono rei per quanto mi riguarda di aver mollato troppo presto la presa perché anche nel contesto tattico difficile di poca organizzazione tutto quello che volete qualcuno lo chiama giocare male chiamatelo giocare male se volete io lo chiamo un contesto tattico poco organizzato perché poi la bellezza è soggettiva ma l'organizzazione invece è una roba oggettiva e la juventus è disorganizzata oggettivamente dal punto di vista della costruzione dal punto di vista della manovra offensiva dato che la juventus segna o come un mischione su punizione o calcio d'angolo oppure andando al cross per vie esterne difficilmente la juventus lavora per vie centrali limiti tecnici non solo e questo è un dato di fatto quindi quando poi verrà cambiata la guida tecnica e si entrerà in un contesto tattico diverso i calciatori si toglieranno quel parafulmine ma non significa che in questo momento siano tutti a posto belli tranquilli no perché a me da fastidio perché un conto è l'atteggiamento tattico un conto è l'atteggiamento con cui scendi in campo quelle robe lì al di là di quello che è il contesto tattico sono una cosa poi qualcuno potrà dirmi sì però provaci te a giocare per tre anni in questo contesto tattico e lì sono d'accordissimo però fino a un mese fa i calciatori della juve anche in quel contesto tattico scendevano in campo con un'altra motivazione ma prima di tutto io devo parlare della guida tecnica e perché mi porto a casa delle sensazioni tra virgolette positive da quello che è stato il confronto ieri con giovanni albanese perché a un certo punto probabilmente sul suo secondo canale sì sul secondo video che ho fatto gli chiedo ok d'accordo la juventus in questo momento abbiamo capito la situazione per ufficializzare o per pensare cosa che per me è difficile pensare la juventus al massimo ufficializzerà allegri rimane allegri cambiamo quando arriverà in champions o quando capiremo il mondiale per club o la coppa italia non è che la coppa italia o se il mondiale per club lo fai sì o no o se arrivi secondo o terzo o quarto e comunque ti qualifichi per la champions ti fa capire se allegri l'uomo giusto o no è il terzo anno è l'anno zero per la juve è l'anno zero per la dirigenza il terzo anno per allegri non può esistere questo tipo di ragionamento a meno che la dirigenza della juve sia un pochettino incompetente e voglio togliere a priori questa possibilità perché sono dei professionisti e non possono assolutamente vivere la giornata e allora richiedo va bene d'accordo questa è la situazione della juve la juve aspetterà va bene ma la tua percezione qual è giovanni mi dice per me la juve cambierà guida tecnica stesso giovanni albanese che due settimane fa faceva l'articolo il video in cui diceva che era pronto il rinnovo di contratto per allegri ed erano sue percezioni è un retro fronte un dietro un retromarcia una retromarcia fortissima per quanto mi riguarda quella lì è una cosa forte anche perché poi giovanni insiste ripeto due settimane fa video in cui pronto il rinnovo di contratto per allegri che deve solo firmarlo e giovanni dice io penso anche che allegri possa avere dei dubbi sul livello della juve e allora qui si apre un altro scenario perché secondo me ma questa è una mia lettura da adesso in avanti inizieremo a leggere molto più spesso che allegri ha dei dubbi vi dico la verità secondo me da oggi in avanti inizieremo a leggere molto più spesso questa versione che la juve avrebbe voluto rinnovare allegri ma che allegri aveva dei dubbi sulla juventus sulla volontà di andare avanti con la juventus per la percezione che ha del livello della rosa con la quale non potrebbe raggiungere determinati obiettivi come la vittoria questo perché perché a me sembra di capire che allegri stia cercando di monitorare un situazione cercare di provare la febbre anche all'ambiente io sono convinto che sia così però sempre più uomini vicino ad allegri dalla televisione ai giornali agli amici fanno passare questo concetto che l'anno prossimo allegri difficilmente sarà la juve e quindi ripeto secondo me d'ora in avanti inizieremo a leggere un po più spesso che che invece allegri che ha dei dubbi sulla juve secondo me sì perché poi si tratta comunque di nonatore che un altro anno di contratto perché poi dobbiamo arrivare a quella che è la domanda che mi fate più spesso a cui ho già risposto ma devo integrarla all'interno di questo ragionamento perché spesso mi chiedete ma tu cosa ne pensi secondo te allegri che sarà la juve anche l'anno prossimo e io vi dico per me si cambia per me si cambierà e secondo me ci sono due nomi per il post allegri che sono conte e tiago motta per due motivi differenti antonio conte sta facendo di tutto per tornare la juventus è lui che vorrebbe tornare la juventus non so se la juventus invece stia effettivamente pensando ad antonio conte e secondo tiago motta che secondo me invece nella testa della juve è il prescelto e anche tiago motta sta un po facendo capire che sarà il suo ultimo anno a bologna poi bisogna vedere se ultimo anno a bologna poi va la juve oppure no però vi dico che dopo l'anno scorso voglio andarci un attimo cauto voglio andarci un attimo calmo perché anche l'anno scorso avevo la percezione che si potesse cambiare in panchina ricorderete che spesso e volentieri dice questo mi sembra un indizio per non è più arrivato il momento di usare solo la logica perché se no usando banalmente la logica riprendiamo il video che vi ho portato ieri pomeriggio ieri sera intorno alle 7 vi dico vabbè arriva giuntoli che già stato confermato l'allenatore però il direttore sportivo e quindi l'anno dopo quando potrà fare la sua scelta lui difficilmente terrà un uomo che era già stato scelto da una precedente dirigenza sportiva o comunque addirittura dal presidente che non ha competenze sportive che il presidente non c'è più cioè una situazione molto strana molto particolare per quello vi dico che l'anno zero della juventus dirigenza è cambiata dirigenza sportiva ma non ha operato non ha compiuto scelte quindi non ha iniziato effettivamente a lavorare come dirigenza perché poi bisogna comprendere quella che la posizione di giuntoli giuntoli cos'ha 5 6 anni di contratto con la juventus vorrà iniziare a fare la sua juventus perché questa non è la juventus di giuntoli è questa è la juventus in cui opera giuntoli ma con il reparto sportivo dal punto di vista del pacchetto giocatori e dalla guida tecnica scelto dalla precedente dirigenza che poi è saltata per via di quel discorso legato ai fattori extracampo quindi è ovvio che se dico semplicemente uso la logica giuntoli viene eletto capo dell'area sport vorrà prendere lui tutte le decisioni e quindi appena la possibilità di scegliere inizia a costruirsi la sua juventus però ripeto anche l'anno scorso secondo la logica dicevo questa roba qui poi cos'è successo che de laurentis non ha liberato giuntoli fino all'ultimo e quando arriva finalmente nulla osta di de laurentis per giuntoli giuntoli arriva ma allegri è già stato confermato per mille mila motivi che possono essere meritocrazia economici gli obiettivi io non lo so qual è stata effettivamente la volontà della juventus sulla conferma di allegri lo scopriremo più avanti adesso possiamo fare mille ipotesi sono tutte giuste tutte sbagliate non lo sapremo mai quindi ipotesi giuntoli vorrebbe cambiare e vorrebbe tiago motta perché il prescelto si però tiago motta è al bologna ma anche tiago motta magari vorrebbe andare via come voleva andar via giuntoli l'anno scorso da napoli metti che non lo liberano e non riesce a incastrare il nome che vuoi fare allora allegra un altro anno di contratto e rimane per quello vi dico la logica ti impone di pensare sta roba qui poi però c'è bisogno di andarle a fare queste operazioni poi c'è il nome di zidane che è un nome che sta iniziando a circolare nelle ultime ore perché perché zidane è tornato in italia zidane era presente appunto al film alla prima del film di marcello lippi e sia da zone sia sky ha fatto la domanda fatidica tornerà in panchina e se tornerà in panchina sarà in italia zidane ha riso felice bello contento detto sì mi piacerebbe tornare in panchina e mi piacerebbe anche tornare in italia per un fattore comunque mi sono trovato bene il calcio è al centro del paese bla 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 però non ha detto tornerò in panchina quest'estate e guardate state attenti a un club italiano perché anche perché zidane è un allenatore un po strano ragazzi allenato solo a madrid al real poi ha vinto tre champions indubbiamente però allenato solo a madrid e solo al real real è una roba a parte è un club a parte non metto in dubbio che zidane sia un ottimo allenatore ci mancherebbe non è assolutamente quello però prima di dire andrei ad affidare la juventus a zidane in questo momento qui probabilmente per un discorso intanto economico perché allegra un altro anno di contratto se fai il contratto a zidane l'anno prossimo paghi due allenatori con ingaggi super e non mi sembra la possibilità della juventus al momento ma soprattutto di poi percezione non ho idea di quali siano effettivamente le capacità di zidane e di quale sia il piano della juve perché a me sembra un piano di una juventus sempre più destinata ad autosostenersi autofinanziarsi a investire delle risorse nell'under 23 e poi svezzarli in prima squadra attraverso prestiti o attraverso comunque possibilità di lanciarli questo credo che sia il piano della juve allora dico da questo punto di vista tiago motto mi sembra allenatore giusto assolutamente perché ti prende il giocatore che a livello 5 e te lo porta a livello 8 7 e mezzo forse 9 per alcuni anche perché poi non dimentichiamoci mai che sono gli allenatori che riescono a valorizzare i calciatori e è un conto come è valorizzare calciatori di corsa di fatica perché quelli dal punto di vista fisico se stanno bene hanno delle prestazioni diverse un conto invece è l'armonia di squadra e di allegri non è bravo a metterci mano è un dato di fatto inutile continuare a discutere questa cosa dicendo però se la stagione finisce in un certo modo allegri non è che cambia se la stagione finisce in un certo modo per la juve allegri ha quelle caratteristiche lì per quello vi dico per me la priorità è ragionare sulla guida tecnica perché se rimane allegri banalmente allora giunto devi mettersi nell'idea che la sua juve quella che a tutti gli effetti sarà la sua juve per i prossimi anni perché ha un contratto lungo più lungo di quello di allegri diventerà più la juve di allegri perché allegri una figura talmente tanto ingombrante che va davanti alla juve e va davanti ai tesserati della juve e ha soprattutto allora dovrà intervenire sul mercato con delle tipologie di calciatori che sono distanti da quelle che ha cercato giuntoli anche solo banalmente a gennaio per quello vi dico la logica mi impone un ragionamento però poi stiamo attenti a quella che potrebbe essere la realtà perché la realtà potrebbe essere poi diversa dalla logica però voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e vi ricordo che oggi alle ore 14 ci vediamo in live per fare un po di chiacchiere domande risposte insieme a voi ciao